Avete ascoltato? Fatti e facezie, un programma ideato e condotto da Cosimo Pucillo. Il programma è stato offerto da... Monzi One, una lunga tradizione specializzata nella lavorazione del ferro, riscoprendo i segreti tramandati da antichi artigiani e lavorando con tecnologia all'avanguardia e l'immancabile creatività. Monzi One opera nel privato e in prese, seguendo il prodotto dalla realizzazione alla manutenzione, lavorazioni in ferro, infissi, porte blindate, ringhiere, ma anche scale, coperture e tanto altro, manutenzione industriale e studio e progettazione di macchinari industriali. E allora prendete carta e penna perché Monzi One è a Volturara Erpina, alla via Vallicella. Per info e contatti chiamalo 0825 984 732 oppure il 340 820 2205 o ancora scrivi una mail a monzi-one-libero.it FF Costruzioni SRL opera dal 1994 nel settore dell'edilizia, azienda specializzata nella realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di edifici civili, commerciali ed industriali. Dallo scavo alle finiture e una esecuzione dei lavori precisa per un risultato capace di realizzare tutti i vostri sogni. Soluzioni chiavi in mano e rispetto per l'ambiente li trovi da FF Costruzioni SRL a Montella, alla Contrada Baruso. Per info e contatti chiamalo 0827 205 019 oppure scrivi a infochiocciola ffcostruzioni srl.com Radio CRT Radio CRT Working on a Dream